Chi prova bene in appartamento sale sul parco tutto contento, però c'è anche l'altro problema che dice che chi comincia la prova seduto sul divano vuol dire che il pezzo ce lo rimane. La città sorta su una delle zone di produzione finicola più antiche del mondo. E adesso vi faccio sentire il gruppo che cos'è? È il tempo. Eravamo prima qui, poi seconda, terza e quante quinta. Una scompensa che abbiamo sistematicamente perso. Se ci perdiamo un segnale è un'azione sprecata, capito? Esattamente, se si ritrova o sei con quell'etichetta o sei con quello che è. E se non hai quell'appoggio. Noi siamo sempre noi e basta. Grazie a tutti.